il bosco è ancora spoglio ancora prestino però sgambiamo vabbè come sempre iniziamo i nostri giri di ricognizione 11 fuori da qualche giorno ma qualcosa c'è o giuseppe il pinuccio vabbè andiamo alla ricerca di qualcosa di meglio oggi è domenica 19 quello che rimane è stato un bel rossino non è stato Insomma sono quelli di questo periodo e vabbè. Vedete il portocane qua? Sono tutti mezzi di marmellata qua. A vedere un pino. Cavolo cavolo cavolo. Grazie. Sempre domenica 19. Pino è bardato perché sembra che ci corre dietro l'acqua. Arriviamo! Aspetta! Profumatissimo! 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 segnato un po' da giù un po' così ah ma io sono contenta lo stesso che meraviglia